117 donne uccise in 12 anni in Toscana, 5 quelle assassinate nel 2019 dal partner o dall'ex, oltre 2.500 chiamate di aiuto ai centri di violenza toscani lo scorso anno, altrettante nei primi mesi del 2020. Questi i numeri del dodicesimo rapporto sulla violenza di genere della Toscana, resi noti nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. All'interno del rapporto anche un focus sui mesi del lockdown, dove si è registrato un aumento di chiamate di aiuto ai centri antiviolenza, ma meno denunce per maltrattamenti. La debolezza, la fragilità, gli aspetti psicologici di una società come quella di oggi portano purtroppo a reagire attraverso la violenza molti uomini. E quindi è una questione che, proprio fin dalle scuole, fin nella sensibilità che passa tra i nostri ragazzi, fin nel modo con cui una cultura che contrasta la violenza alla donna, passa attraverso una grandissima e vasta opera di sensibilizzazione. Sono state 2.511 le donne toscane che si sono rivolte a un centro antiviolenza nei primi cinque mesi del 2020, la maggioranza dei casi per violenza domestica. Il lockdown, che ha ovviamente portato anche a occasione i momenti di convivenze forzate, non ci ha aiutato. Ma io voglio ringraziare davvero le operatrici dei centri antiviolenza e tutte le persone che lavorano alla grande rete antiviolenza che esiste sui territori e che è fondamentale. Noi continueremo a lavorare soprattutto anche sul tema della prevenzione della cultura, perché io credo che sia fondamentale ripartire da qui, dall'educare le giovani generazioni al rispetto, alla non violenza e anche all'abbattimento di quegli stereotipi di genere che ancora persistono all'interno della nostra società. La Toscana è all'avanguardia nel sostegno alle vittime, grazie al Codice Rosa e alle reti territoriali di sostegno alle vittime di violenza, con le case rifugio fino ai consultori.